Salve a tutti, buongiorno a tutti, da Mongolia ti parla sempre di mortacci tua, fatta e zitta. Allora, ve voglio far, siccome sono anche un'insegnante di ballo, molto yeah yeah, ve voglio insegnare come cazzo se balla, sti giovani de merda di oggi, come se balla in discoteca. Vi faccio vedere come ci si muove, cazzo, vi faccio vedere io, allora, è uno, due, tre, via. Quindi faccio i cazzo di gestione, non mi metto la mano. Faccio, cazzo. Non ci muove, vero? Non ci muove, vero? Non, non ci muove. Vedo la vena, non ci muove, vero? Non ci muove il cuore, non mi metto la vena. Ciao